Salve a tutti, io sono la Uftoga, questo è Resident Evil 4 in VR. La bella Ada ci ha appena salutato, e ha fatto appunto come Spider-Man, e se n'è andata via. E tocca a noi però risolvere il puzzle qui. Pietra litografica B. Ok, un'armatura. Perché ovviamente poi va da sé che i signoroni del 1200, 1100, forse anche un po' prima, andassero matti per il puzzle, no? Per spostarsi da un lato all'altro della loro casa, ma non si fa così, bisogna, esatto, bloccare l'accesso in modi imprevedibili e divertenti. Giusto, signor Cavaliere? Posso? No. E va bene, e va bene. Uh, macchina per la tortura, non utilizzabile. O forse per la stampa? Sì, è una macchina per la stampa. Ah, carina. Forse. Non sono molto sicuro. Comunque, B, grazie. Ah, D, D. Eh certo, la birra abbiamo per la raccolta, cosa dico. Bene. Potevo, avrei potuto aprire tipo... Ah no, era proprio sigillato. Eh vabbè, eh allora. Era l'unica opzione, mi dispiace. Non era la mia intenzione distruggere. Pietra di teografica C. E l'altra è già inserita la A. Siamo a posto, direi. Giusto un'ultima ton... Ah, non ho le chiavi piccole però, dai. Sì qua, non so, non mi danno molta fiducia, eh. Vi dirò, vi dirò. Mmm, ma cosa abbiamo qui? Mmm, meglio non saperlo, vero? Però, oh, invece il prosciuttino, un po' di jamon ci sta, no? Ok. Questo si apre? Ma certo che si apre. Contiene un orologio stravagante. Carino. Bello davvero, ragazzi. Cioè, mannaggia che scompaiono le cose dalle mani. Volevo farvelo vedere per bene. Comunque. Ho risolto l'arcano. Bene. Mmm... Ah, ma sono due armature? Cioè, questo non lo posso prendere comunque inserito nel luogo giusto, mi dite? eh. Boom. E... Cioè, tecnicamente, vabbè. Ah, oppure? No? Ecco, mi vuole far... Ah, sono duple fass. Ah, questo non lo sapevo. Allora, scusa. Sono uguali, no? Mmm... Sono perplesso. Cioè, questo è un po' più scuro, ma... A parte questo. Sono identiche, sì. Ma, vabbè. No. Poi. Mmm... Qui? Ah, certo. Lì vuole un quadrato. Ah, dovevo guardare... Mmm... Eh... Le forme. Ok, allora. Boom. E... Immagino. Questo. E... Ma scusami. Ok. Eh, però poi non ci troviamo più col quadrato. A meno che non... Ah, è un esagono, in realtà. Ok. Ma allora, dai. Per fortuna questo era più sul mio livello. Ce l'ho fatta. Uh, che figata. Vibra tutto il visore. Eh là, ma... Che pantegane, signori. Quelli sono dei gatti, non sono dei topi. Bene. Devo trovare Ashley. Sì. Siete tranquilli? O siete topi... Con la slagas? Posso tipo... Sì. A parte che probabilmente, conoscendo il mercante, potrebbe darci una sfida per ucciderli. Quindi a questo punto mi porto avanti, no? Ue, ue. Dove vai? Vabbè, senti, ciccio. T'ho dato la tua opportunità. L'hai sprecata. Fermati un attimo. Piccolino, piccolino. Sì, era messo male, meno male. Questa invece è piena. Salvataggio. Uh. No. Illuminados 3-2. Ascolta il segnale dell'eco attraverso le montagne. Le rocce diventano ghiaia. E le mura del castello si frantumano. Guarda l'ombra cremisi del cielo notturno. Un fiume di sangue infetto deturpa il mare. Sacrifica la tua vita e il sangue del tuo nemico. Vai a Menda per i tuoi antichi peccati. Bene, grazie di avermi fatto fare squat. E... Orcavacca. Però, non chiedi... Psichedelico, così ondeggiano. Beh, beh, carina. Ah, c'è... Ho sentito qualcuno, eh. No, no, non facciamo finta di niente. Qualcuno c'era. No. Chi è? Grandioso. Eh, infatti. Chi era? Anche per capire come prepararci. Ok. Siamo... Messi bene a munizioni. Tra virgolette, nel senso. Abbiamo almeno un caricatore inserito in ogni arma. Uh, piccola chiave. Torniamo indietro. Capito? Si si afferma un po' troppo sugli oggetti, residentivo. Secondo me ha paura che uno si dimentichi cosa ha preso. Dice... Ma no, leggi. Che devi saperlo. Secondo voi, cosa ci troveremo di mirabolante dentro il cassetto? La biancheria di Lord Sadler, probabilmente. Eh, eccola qua. Orologio da taschino. Boh. Vabbè. Per carità, eh. Si vende come si vendono anche le altre cose. Però... Mi continuo a prendere i revolveri invece della Glock. Mannaggia lui. Ah, certo. Adesso devo spostare l'armadio. Va bene. Olle, bravo di orca vacca. Ok. Ah, beh, certo. Beh, certo. Wow, 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 wow. Calmo. Calmo. Cal... Orca. Calmo. Calmo pure tu, eh. Oh, ma di che è fatto? Che schifo, mannaggia. Che schifo. Ehi. Belli però gli animali impagliati. Oh, bellissimo il procione. Il gufone. E addirittura un armadillo. Ma non dovrebbe essere tipo così. Una lontra. Carino. Però invece, esatto, qualunque cosa fosse quello... Ech. Cioè, un aracnofobico... Di fai venire un infarto a giocare questo. Ok, sempre questo simbolo. Ah, è quella schifezza. È quella schifezza lì. Ok, ok. Stiamo imparando cose. E si scende. Ok. Qualcuno si diverte con pratiche un po' kinky. Ah, ma... Ma mi hai fatto spaventare per nulla. Mannaggia, te te possi, no? Allora, abbiamo una bella selezione. Scusa, io posso vendere... L'orologio. E lo specchio. Patacchio preziosi. Sì, sì, sì. Nessuna patacca, guarda. Sono tutti preziosissimi. Allora, mi prendi questo. Incastona gemme. Ci mettiamo... Una rossa e una blu... Ma dove? Ah, no. Ok. Allora, scusate, eh. Stacca. Perché una blu e una rossa. Così, è più carina. C'è un po' di... Di... Di colore in più, ecco. Però guardate quanto è bello. Veramente fatto bene. Ok, vendiamo anche questo. E arriviamo a quanti soldi? Chi lo sa? Boh. No, non diamante giallo, ho sbagliato. Ok. 56.000. Compra. Ah, e posso comprare lo Stingray. Ok. Allora, lo prendiamo. Come dal consiglio di FBO Guitarist. Grazie mille del consiglio. E magari scambiamo anche... No, aspettate, non questi qua. E... Devo prenderle dal... Dal deposito per potergene vendere le armi? Aspettate, effettivamente non ho controllato. Vendi. Scendi, scendi. No, sono tutte qua. Quindi esatto, questo tipo, che non serve a nulla. 6.000. Questo anche vendiamo. Matilda no. Matilda me la tengo. Red 9. Red 9... Effettivamente, non è che mi sia garbata troppo. Vabbè, anche la Red 9, dai. E spero di non fare una cagata. Però effettivamente, come mi ha suggerito, appunto, FBO, non ha tanto senso tenersi le armi nel deposito e non usarle. Uccidanti, insomma, ma... Ah, è quello che sto usando lì. TMP... Non lo so, per il momento ce la teniamo perché è l'unica mitraglietta. Poi magari se arriva un upgrade... Ecco qua. Ma prego. Fammi riorganizzare. Oh, ok. Quasi, quasi. Il pesce lo deposito. Non glielo vendo. Lo deposito perché... Ah, giusto. Sta cosa che non puoi depositare gli oggetti, mannaggia. Allora, guarda. Ti voglio bene, mercante, sei un mio amico. Quindi non ti offendere se ti chiedo un compenso per questa cosa, però il pesce costa. Facciamo così. Ecco, bravo. Facciamo così. Una bella cena di pesce. Io e te mi dai 20.000 pesetas e siamo a posto, eh. Ma guarda che è una qualità che manca in ristorante, cioè non puoi capire. Tanto a vita sono messo bene. E vabbè, vendiamogli il pesce, così devo dire. Anche la vipera, to. Gli oggetti preziosi non sono... Sì, 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 mi oggetti preziosi non sono... Allora. Ci teniamo il pescione? Questa è usata per ripristinare la salute. Sì, dai, ci teniamo quello grosso, grosso, grosso. Ho altro? Ah, beh. Munizioni carabini in realtà... Glielo ho sempre vendute, però adesso ci serviranno col nuovo fucile, quindi... Ce le teniamo strette. Cioè, così faccio un po' di ordine, intanto magari velocizzo. Però se no non ci capisco nulla, sul serio, quindi... Faccio le pulizie e ci rivediamo. Vabbè, dai, ce lo mangiamo. Ecco, ripristinato al massimo. Un po' di spazio c'è, non tantissimo. Quasi, quasi... Boh. Comincio a pensarci più sulla TMP, se metterla da parte o meno, perché effettivamente... Eh, una volta occupato questo spazio diventa un po' claustrofobica la situazione. Comunque, Stingray. Questa è un'arma che riduce le teste in poltiglia, amico. Potresti fare una strage in un campo di zugghe. Molto bene, molto bene. Che posso fare per te? Eh, per potenziarlo... Un'arma per potenziarlo posso perire a ogni tua maniera. Vediamo prima com'è lo stock. Poi ci pensiamo, magari. Questo lo facciamo riparare, sì. Anche questo. Qui siamo a posto... Boh, cadenza di tiro... Non è un problema, sinceramente, tanto basta che comincio a sgrillettare come un infame. Potenza... Questo qui, eh, questo non sarebbe male. Potenza, dai. Ok. Sì, basta. Per il momento mi fermo qui. Solo appunto... Urca vacca. Queste, vabbè, non le ho unite perché preferisco aspettare una pianta rossa. Invece... Se tanto mi dà tanto... Perché comunque... Lo posso equipaggiare solo o qui o qua, giusto? Cioè, se io faccio così... Ah, ma... Cioè, funziona veramente, ma che cavolo? Ok. Allora le cose cambiano. Se posso fare questo... Se posso fare questo, quasi quasi, lui va a finire... Anzi, guardate. Lui va a finire qui, no? E la TMP... E la TMP... Va a finire qui. E la Broken Butterfly ce la teniamo proprio di riserva, riserva, riserva. Ecco fatto. Dobbiamo essere sicuri che funzioni, perché non mi fido. E quindi, così, invece, Stingray... Ah, però... Scusate... Il mirino? Funzionerà anche quello lì della carabina? Mirino telescopico? No, aspettate. Ovviamente devo aprire il menu. Monta sullo Stingray. Ok. Adesso sì che abbiamo poco spazio. Però effettivamente ne vale la pena. Eh sì, sì, sì. E stavolta funziona anche, mi pare. Oh, finalmente. Bella, dai. Veramente una bella arma. Carina. Proseguiamo. Guardate che forza che c'è in queste mani. Altri altoparlanti. Secondo voi, no? Ma giusto per... Scrupolo. Ah sì, si può. Si può, si può. E' cambiato il lighting completamente. Però bello, bello, veramente. Oh, mio caro signor Kennedy. Sembra che abbia perduto la sua compaglia. Sì. Le è bastato vederti una volta. Ah 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 ah, uh. E' vero sì, ormai il loro barco che andarci così piano. Adesso giochiamo secondo le vere regole dei salandari. Sarebbe a dire? Aprirai la camera dei segreti? No, perché... Tecnicamente c'è anche io serpeverde tutta la vita, eh. Non... Ah no. Ah no. Ups. Ah no. Ma ha sbagliato anche tasto. Ok. Tanto loro esatto non stanno facendo nulla per ora. Eh... Ok, dai, adesso è chiaro. Zoom, zoom. Zoom, solo due livelli. Porca. Grilletto molto sensibile, eh. Molto molto sensibile. No, vabbè. Mi sa che è un po' tempo sprecato, a meno che avviciniamoci, dai. Ok. Uno. E... Due. Ah dai, non sono neanche morti, dopo tutta sta fatica e queste spese. Stavo guardando se lì... No, sono solo dei rampicanti, ok. Forse... Ah, è che forse non li sto prendendo neanche, invece sembra di sì. Ok, quello l'ho preso sicuro, dai. Questo qua tornasse un po' più... In fuori. Si è attivato... Lo sgorbio, mi pare, vero? Boom. Ecco qua. Dai, dai, comunque sì, un ottimo investimento, devo dire. Oh. Boom. Ah. Ma sapete che non... Cioè, stranamente non ci avevo pensato proprio a una cosa del genere. Cioè, ero tranquillissimo. Oh, 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 oh. Calcialo, calcialo. Sì, ma dovevi anche prendere lui, però. No, facehugger, stai via. Questo non è alien, ok? Polvere da sparo. Molto utile, molto utile. Posso... No, eh. Ah! Aspettate... Ehi, la... Sento un rumore di schifo. Questo sicuramente non sarà pronto. Perché non avrebbe senso. Dov'è? Eccolo! Avevo... Ah, saltano pure. Saltano pure. Fuori uno implica l'esistenza di altri di questi esseri infami e maledetti, vero? Sbucheranno da tutti i posti. Dovrò stare molto attento. Ah, ma guarda chi c'è. Aspetta, scusa che... Ah, che c... Oh. Vai, vai, calcio, calcio, calcio. Uh, uh. Ah, ah, ed è giustamente. Non c'avevo pensato, però ha senso. Oh, munizioni pistola, grazie. Ok, la stanza del sole. Ah, magari tirando la leva si chiude qui, ma si alza lì. Ok. Qua sotto, ovviamente, è l'altro posto. Ok, dai, proviamoci. Ecco qua. Che poi è una schifosissima porta a soffietto di ferro. Cioè, hai voglia di poterla sfondare già con un calcio. Ma poi figurati con questo. Comunque. Qui è chiuso. E c'è addirittura... Guardate, un altro pezzo di... Di castello là sopra. Ma veramente... È stra Dark Souls sta cosa. È fighissimo. Poi ovviamente voi mi potreste dire Ma Resident Evil 4, l'originale, è uscito prima. Sì, va bene. Però sto comparando una cosa a un'altra esteticamente. Non è che bisogna star qui a fare i puntigliosi. Sono perplesso. Cioè, se torno su... È ancora chiuso? No. Quindi... Ah, bastava non toccare niente. Ok. Ci sta. Molto bene. Sacchi di farina. Uh. Boom. Ok. Ok, bisogna arrivare lì. Vedo già un bastardello. Secondo voi, no? Secondo voi lo sharpshooter. Da qui funzionerà? Sì. Bello. Bello davvero. Ok. È già... Un altro è sistemato. Adesso, prima di andare lì... Uh-huh. Guarda un po' chi abbiamo. A salutarci. No. Il prossimo. Sì, non è che però se... Oh no. Ah beh dai, pensavo. Gli esplosa la testa e basta. Pensavo fosse uno di quelli che escono fuori. Niente male, davvero? Ok, lanterna per far saltare tutto in aria. Non serve. Fortunatamente... Ce la siamo vista... Bene. Nulla che ci aspetta di qua. Ok. Eh, questo mi sembra un bel po' più forte della mia torcia. Non posso usare questo, no? Ah. Perché? Boh, vabbè. Perché no, giusto? Ah, ecco il motivo. Eh, qui però si prosegue. No, 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 allora faccio il giro dall'altra, scusate, ma magari c'è qualcosa di figo da raccogliere. Oh, oh, oh. Ma perché? Oh. Ehi là, bellissimo. Dai, vieni. Sì, eh, bravo. Mi hai capito. Sì, però non può essere ancora vivo, mannaggia a lui. Vabbè. Quando ci vedremo, almeno sarà un po' più... Tranquillo. Eh sì, non avrei dovuto tirare la leva. Ma tanto ci ho visto una scala lì in fondo, non è che alla fine mi riconduce tutto allo stesso punto? Potrebbe essere. A questo punto andiamo avanti e... E vediamo un po'. Tanto credo si potrà comunque tornare giù, da qui. Hop. Ti vedo, eh, non fare l'ognorri. Ti vedo, ti vedo. Anzi. Anzi, visto che è tranquillo. Sì, bravo, scendi, scendi. Vai, vai. Uh, vai. Bella questa. Dal davanti non l'avevamo mai fatto. Ok. Posso arrivare lì, aprendo questa. Ma... Non è da dove sono venuto, vero? No. Pare di no. E buttandosi qui, invece, arriviamo di là. Eh... Boh, ma sì, dai. Giusto per capire. Porca! Bella questa. Guarda, ci avevi solo un fiato di vita, ma l'hai usato bene. Ma... Uff, che scossa. Davvero. Non me l'aspettavo. Collana barocca. Eeeh... Questa vende per tipo 50.000 pesetas, forse di più. Mamma mia, c'è ancora il brivido nella schiena. Che figata. Ok. Altre leve, altre chiavi. Apriamo qui. Ragnetti. Calmini, eh. Ah! Guarda un po'. Vai, 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 vai. Vai. Eh, ma sei una pippa, Leon, però. Dai. Colpisci. Non... Circumnavigare il tizio con lo scudo, però... È lui che vogliamo fregare? Oh, ancora. È qui è dove eravamo prima. Sì. Ok. Credo che abbiamo esplorato... Completamente la zona. Ok. Ti vedo. Se ci fosse un modo... Ah, quello era per il... Tizio con la balestra. Vabbè, allora nessun problema. Senti. Ok. Facciamo così prima. No. Vieni. Vieni, vieni. Ti aspetto. Ok. Però, però, però... Stanno diventando molto più... Sofisticati e sneaky, eh. Carino, carino. Ok, la seconda parte del bastione. Andiamo su. E prepariamoci al peggio. Tecnicamente qui ci dovrebbero essere i due che ho ucciso. Oh, no. Ce ne sono altri? Che bello, guardate. Guarda, per prima cosa... Per prima cosa... Le pietre in faccia? Anche no. Per prima cosa mi volevo complimentare per il... Per la scelta fashion. Davvero un bel... Una bella maschera. Serve a completare l'estetica. Sentite, io... Con tutta la buona volontà, mi sa che... Da lontano... Le è un po' difficile. Andiamo giù. Vita? Mazzo, però. Ho allevato a metà. Molto bene. Allora, io posso anche correre lì. Però non mi dovete far trovare altri nemici. Vero? E mi sa che li vedo già. Mi sa che li vedo già. Aspetta. Non capisco. Sì, quelle fiaccole sono dei nemici. Qualcosa ho fatto. Non molto. Sì, dai. È inutile sprecare munizioni così. Avviciniamoci. No. Adesso, cavolo, devo ricaricare anche lui, vero? È certo. Allora, è un po' più caldo, è un po' più caldo. Tira, tira. Lancia, forza. Bravo. Vai, Dion. Dion, vai! Eh. Domani mattina, Dion. Cacchio? Cacchio? Uh, attaccato al muro. Ma sono questi eser Monti. Bravo. ok qui siamo tra virgolette al sicuro aspettiamo che lanci bene vai di dietro potrebbe esserci qualcosa pianta verde ok ok non si disprezza polvere da sparo anche qui nulla aspettiamo ancora ah ma che bella serata che c'è oggi eh dai anche tu ti pare il caso di fare sto casino con una luna bella così questa è una serata romantica da passare con orca vacca non con una freccia nello stomaco ok ok vedo il vostro gioco vedo il vostro gioco e vi rispondo così veramente grazie del commento per comprare sto qua veramente utile adesso se sua signoria si è accalmato vai ok non ho tanto ecco non me l'aspettavo eh pure la roccia in faccia è bellissimo questo è stato un attacco combinato da parte di tutte le forze di resident evil e se quasi quasi doppio verde perché doppio verde credo che dovrebbe curare esatto tutto questo ok scusami tesoro oh finalmente un po di giustizia c'è ah è sempre lui me lo sentivo dietro ok raccogli questo di là non si può andare continuiamo di qua ok molto bene solo che mi si apre qui e lì ah posso scendere ancora io che pensavo a saltare sulle travi appese qua ok vai 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 ti vedo eh ti vedo però che è esatto voglio sapere se c'è qualcuno qua prendi vieni 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 uhuhu adesso prenderà fuoco tutto no? ah beh effettivamente è fango pensavo fosse benzina no? Scala, scala, sì Scala, è lì Ma noi Siamo in pericolo Vai, 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 vai Mi sa che ci arriva adesso la pietrata Ok Uh, col cannone Bella Bella, sì Allora posso già sbloccare il cannone Il fatto è che sono sicuro che ci siano Eh, esatto, forse lì dietro Non è chiaro Andiamo a investigare Tanto, signori, io non faccio distinzioni O prima o dopo Qua vanno tutti all'altro mondo Sempre queste piccole chiavi che mancano Munizione pistola Urca, ma ti fai male così Ma stai attento Ti devi salvaguardare Ok Qui a posto, lì Aha Lì è proprio una legione Di scalmanati Va bene Sì, non potrei Sniperarli da qua Ma A pro di che Tanto poi non ho neanche Molte, molte, molte munizioni Di questo Vero, eh, infatti Conserviamole per i nemici Lontani, veramente Addirittura fai la doppia protezione Per non far salire sto cannone Ok Allora adesso Voglio cercare di capire se c'è altra gente qua sopra Però che bello vederlo così Allora In realtà In meraviglia della solidità di questo legno Veramente Complimenti a chi l'ha costruito Ciò detto Ciò detto Bisogna calibrare E mirare Il cannone Adesso se me ne dà la possibilità Vai No, non l'ho presa Non l'ho presa Non l'ho presa Non l'ho presa Ma cosa Wow Ma meno male che erano ste scale qua Se fossero state quelle Sarai caduto nel buco Ma no, dai Adesso non esageriamo È che non ero abbastanza vicino Esatto allo scudo Ok Adesso chi è che gli sta facendo il culo Vai vai stronzetto Adesso è la stessa cosa praticamente Siamo siamo una sola persona io e Leon Bene Non è che Eh sì 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 Mamma mia che bello Ci hanno pensato Ci hanno pensato Bravi Bravi developer No Eh Ah ah Esagerato Perché Usa un cannone per sconfiggere un fanatico Scusami eh Ma mi sembra La cosa appropriata veramente Tecnicamente Tecnicamente dovrebbero essere felici Gli ho sconfitti allo stesso modo Che ho sconfitto il bestione Praticamente È dire che sono allo stesso livello Scusami Anche un po' così No Un po' troppo Dai Adesso è preciso Bene Da qui mi sembra un po' Eh invece Uh Che cosa fa questo Scusate Non mi è chiaro Devo andare a controllare Dai segreto 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 Scusa anche salendo no Quella massa Di sassi Quella massa Di massi Mi andava A terminare Mica qua sopra Al piano di sotto No Eh infatti Era qui Mmm Non Capisco Era una cosa Giusto per Ma dai Ma no Qualcosa deve essere successo Ma Sono scemo io E non arrivo a capirlo Dai Boh A me sembra tutto uguale Boh Che strano Se vado da qua Eh appunto Nulla Ovviamente C'era un altro di là No Non l'ho capito Questo Sinceramente Eh vedete Vi danno anche la zona Per farlo Proprio preciso Boh Vabbè Nel dubbio Gli abbiamo sparato Poi Chissà Oh Ma che bella sorpresa È un altro di loro O è proprio lui O è proprio lui Allora si che è incazzato Ti capisco Fratello Scusami E effettivamente Non ho fatto una cosa Molto gentile Cioè Ti avrei potuto eliminare Invece ti ho sfregiato Ma ne ho avuto abbastanza E stai giù Vi danno anche la possibilità Di tornare indietro Ma non me la racconta giusta Quel Quel meccanismo Comunque Ok Mercante No Aggeggi vari Ok Questa Una sega circolare Va bene Non è che ci sono Delle tronchesi Che Resident Evil Va matto Per le tronchesi Uh Bello Dai Che figata Oh Ah ma siamo nel giardino Vuoi vedere che Ashley È qua intorno Vuoi vedere che Ashley È qua intorno Esatto Dai Ashley Vieni fuori A per il tuo bene Leva Ok Cosa di Come cacchio si dice Barile Pianino per forza Barrel No Tesoro Vieni qua Oh Poverina No dai Potrei farti del male Pfff Quel cosa di prima Potrebbe farmi del male Ho tanta paura Quando è successo Non ero più in me Hai ragione Quando hai fame Non sei più tu Tieni Uno sneakers Lo so Lo so Molto bene Anzi È normale A meno che tu non sia me Io non ne ho Ma non puoi scappare Devi andare avanti Per le 3-4 ore Che ti restano Poi Il virus Prenderà il controllo Del tuo corpo Non so se ce la faccio Ce la farai Sicuramente ce la farai Magari avverti Prima di accoltellarmi ancora Sì Sì Ah ma di nulla È il mio lavoro E capitolo terminato Macchina da scrivere Grazie E Sì Boom Ok Continuiamo ancora un po' Dai Capitolo 9 Arriviamo Ah Luis Dove sei? Scusami Ho fatto un casino Vieni a salvarmi Principe Azzurro No Non mi va Andiamo In sala da ballo Dopo il cortile Vieni a danzare con me Allora Luis Mi stai facendo fare Il giro del castello Eh esatto Non possiamo? Davvero? No Vieni qua Non scappare più Hai capito? È un po' Scemotta Ovviamente Appunto Come tutte le ragazzine Dei giochi Giapponesi Però dai Mi aspettavo peggio Da quello che avevo sentito Della Ashley originale Ovviamente Aspettavo molto peggio Questa Ashley qui Dai Cioè sono tipo Non so se avete mai visto Brooklyn Nine-Nine Il meme Che Che c'è rosa Col cagnolino Ho avuto Arlo solo per un giorno e mezzo Ma se dovesse accadergli qualcosa Sparerei a tutti in questa stanza E poi a me stesso Ecco la stessa cosa Quindi nessuno ti farà del male Ciò ha detto Spacchiamo tutto Sei invitata Anche tu A A fare un po' di Decorazione Alternativa No? Va bene Ci penso io Che frutta invitante plasticosa Altro? Vabbè macchina da scrivere Uh Molto bene Molto molto bene Facciamo questa cosa subito Uh Chissà Dubito Perché di solito Me ne perdo sempre Di queste cose Però sarebbe figo Aver raccolto tutte le piante gialle in game Per la fine del playthrough Appunto Molto improbabile Ma Chi sono io per dirlo Quella banderuola Non Boh Chissà che vuol dire Uh Ok Munizione carabine Grazie Cioè tecnicamente appunto Asli sono Un'armeria vivente Vuoi qualcosa? Top Ciappa E qui è l'altro lato Dove ci hai abbandonato Ok Ok Va bene Si è chiuso il cerchio Per così dire Sento dei grugniti Tu non è che Mentre eri qui Hai visto qualcosa Qualcuno Era tutto tranquillo Eh sì Bye bye Corvetti Cominciamo ad andare su Avrei Avrei dovuto spararti Quando non avevo L'opportunità Sì Non correre davanti alla linea di fuoco Te l'ho detto mille volte Chiuso dall'altro lato Se solo potessi Far passare la mano Tra le sbarre Oh Oh ma guardate Ci riuscirei Però Però Ci hai provato Ci hai provato Bella sta fontana Guarda Ashley Ci sapevano fare Davvero Gli architetti qui E gli ingegneri E i costruttori Perché non è che È solo l'architetto Eh Ce n'è un altro Vero? Ed è qua dietro Vero? No Scusami eh Che per sbaglio Ah Granatina Granatina Porca Dovrei Avrei dovuto farlo prima Ma va bene Oh No Lasciala Ma non erano tre Il terzo dov'è? Tutto ok? Sì Ma hanno appena Infilato Un artiglio Nella schiena Ma Molto bene Il terzo Chissà dove Si è andato a dannitare Però dai Era normale lui Quindi Scialla Granata Oh Granata Stordente Ok Carino Questo è chiuso Da un meccanismo Non da una chiave Ok Non sono il massimo Dell'intelligenza Sti cani Ah Ashley Perché Quindi Cosa Da tenere premuto Si credono Tanto furbi Come se un colpo di pistola Non li uccidesse Ci incontriamo dopo E' attenta Più tu Guarda Mi preoccupo più Per te Che per me Tutto ciò Per fare questo Abbiamo sciolto Lo standard Ah Chiaro Adesso ha più senso Sì Adesso però Ho visto roba muoversi Ecco appunto Ti pareva Ashley Eh lo vedo Tu seguimi Ah mi butto da qui Giustamente Vai 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 Sei a posto È morto o no Cacchio Cacchio Dovevo muovermi Vero Sì lo so Lo so Cacchio 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 stracacchio Vai Eh ti vedo Ti vedo Chissà poi Cioè dove la portano Da lord Cazzi e mazzi Va bene Ma dico Proprio Effettivamente Nella si Nella situazione Di gameplay Sto cercando Dov'è Ashley No Via Vabbè L'hai voluto tu Kill Istantanea Peggio per te Pure Ne arrivano altri Va bene Noi siamo qui Solo adesso Dobbiamo fare Cacchio Non l'avevo equipaggiata Che peccato Ok Pianta verde Grazie Dobbiamo arrivare lì Non so come E dall'altro lato C'era subito In realtà Sì io ho addirittura Una pianta gialla Quindi me la cavo bene Dai Ok questo qui Secondo Ok Eh il terzo Adesso devo capire Come arrivarci Vai giù Il terzo Che è là dietro Da qui Ma dai Ho sparato Eh Leon no Leon si Se tu non fai nulla Tesoro Allora Buono Davvero nulla Di qua Lo trovo improbabile Uh Ah tipo Un pozzo Ci sta dai Pianta rossa Ok Guardate Se me ne date Un'altra gialla Sono anche più contento Spray medico Ma ci stanno trattando bene Devo dire Quindi là siamo andati Di qua pure O continuiamo di qua Vabbè Tanto è la stessa cosa Perché poi si ricongiunge Esatto No Esatto no Però Comunque Dove sei? Vieni Vicino a me Allora La statua È qua Tranquilla Ma chi è che fa sto casino? Ah Sarà un'altra gabbia di cani Che si sono liberati In questo momento Vero? Ah no Non si sono Eccoli Dai cavolo però Muori Oh No Me ne rimane sempre uno Nella Glock E ci siamo Dai però ho sparato L'avete visto anche voi Mi fanno Perché vabbè Le prese ovviamente Saranno automatiche Però che cavolo Se io sparo Ci dovrebbe quantomeno interrompere Ancora Eh sì Vai vai Ashley T'ho detto Non ti inserire Nella linea di fuoco Tutto bene? Oh Sì Sta bene Tutto bene Ma sei stato tu Coglione Ok Qua non ci sono passate Ed era all'altro lato Vabbè Al ritorno A meno che Non mi facciano Una situazione simile A quella di prima Ok Che bello Scacchiere elegante Varrà un po' di meno Con solo due pezzi Ma Ci accontentiamo Vero E appunto Ecco la terza Torre Qua non c'è nulla Di qua Ci apriamo La scorcia Eh dai Però Va bene Vieni Micio Micio Qui Cucciolo Cucciolo Ok Ma a questo punto Se qui Si fa C'è sta scorciatoia Per andare lì Direttamente Scusate un attimo Restate Un secondo Tranquilli Che io mi faccio Il giretto Di qua Per andare a prendere Quello che ci siamo persi Eh no Non era qui Un po' di pazienza Scusate ma Io sono fatto male E devo raccogliere tutto Eh ma Mannaggia Ok Quindi alla fine Spuntavamo lo stesso fuori Adesso non mi faccio più fregare Da sta cosa Ok Buona Siamo pronti Ashley In due secondi Saremo fuori di qui Oppure arriveranno altre orte di nemici Fifty fifty E uno e due E adesso tre Eccolo qua Eccolo qua Boom Io dico solo questo no Immaginate il povero re Siamo usciti da questo labirinto Che non ha a cuore Che non ha a cuore gli interessi della popolazione Tutto questo Non si apre vero Non si apre Come torno indietro Io Comunque tutto questo Semplicemente perché Erano un po' troppo stravaganti Nella costruzione del castello Ma ti esce a sto punto E tu poi mi vieni incontro dopo Non c'ho cavoli di Trovare l'uscita Ok Ecco fatto Vieni vieni E vieni vieni Oh cacchio no Cioè a me si Ma a lei no E ma tu tu vieni Ti pare che ti voglio lasciare Vieni E qua giusto Oh Vieni Non ho giusto Ancora Non poteva neanche Cioè Guardate con sta spastica Che corre in giro Non poteva neanche Fare raffica Ok Uff Non me l'aspettavo Non me l'aspettavo Più o meno Oh Sarà la sala da ballo Forse sì Sembra molto Grandiosa Guardatela Oh bella E c'è anche il nostro amicone mercante Esatto 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 E Così Esatto Considerando La presenza del nostro caro amico Ci dovrà anche essere Una bella macchina da scrivere Che ci servirà per salvare E terminare così L'episodio Quindi Vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto Dall'Ouftal Tutto E noi Ci vediamo alla prossima Ciao ciao Ciao